detto se ce l'ho adesso per esempio e non tengo a niente che poi come c'è di giuro io non sono non sono mai uscito di casa e non sono scena te lo giuro hai detto perché purtroppo il tuo fratello è andato senza mascherina se deve essere essere quello segnalato come bersaglio ricercato proteggilo a ogni costo scelta ambigua vagnò sapete come sono morto hanno messo una claymore davanti l'auto palentata perché è andata da visto l'ambulanza polizia un signore di 80 anni dal quarto piano è caduto giù dal quarto piano ed è vero giuro se lo ti mando il video ma al quarto piano ci vuol dire un miracolo è caduto non è che sembra che è caduto non sai come cazzo ha fatto accadere ma che cosa Ahahahahahahahahahahaha ah 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 oh oddio 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 che gol oddio frate non ci no combate non l'ho mai visto non l'ho mai visto una cosa del genere ora faccio la clip oppure ho quittato se non sbaglio ho messo in pausa no frate fai la clip no no l'ha tolta Giulio questa cosa me l'hai inviata mio zio eh lo so però io c'ero questa cosa è bella da boomer ma Giulio non ti fa schifo quel video ah mio zio è un boomer vaià si certo lo so ciao ragazzi buona a tutti auguri auguri raga lui ciao a prenda un chat di gioco no gioca ma qua muta gli altri muta tutti per me andrea checco porco oddio fra no 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 vai sia per voi un bambino un bambino un bambino c'è baby di giablo baby e c'è free baby voglio mezz'ora di consiglio con i professori insomma a me li hanno fissati non è un modo mi si è po' mi si è po' divertito io ho detto no oh cristo lancerò no lancerò dopo la clip lancerò diventa papà posso perché oggi ho capito che ti ho sborrato dall'occhio e passato lo sperma come sei stupida prendi la pillola e abortisci trova di merda ho i tuoi capelli lisci ritorno il 2 con l'aereo che se ma donna putt donna è morto lavoro tu ti spacchi il culo nella vita per trovare il tuo lavoro poi studi 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 per finire a pagare 800 euro al mese combattuce finisce la finisce la divertimento combattuce finisce dire io voglio entrare nella cazzo di pubblica amministrazione allora cazzo non fai un cazzo ti porti a casa 1.000 euro ti accontenti invece che fare 100.000 euro all'anno combattuce per portarmi a casa venti cane 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 regalati cane pazzo pazzo cane cane pazzo 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 oh popolo eh eh mhm 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 oddio 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 fai la clip mamma ma stai tutti bukeh dove sei? non lo so sono sopra una casa siamo circondati bovie pacco dovevo mettere prima la pistola vabbè sono tutti vabbè sono tutti vabbè sono fai la clip vabbè vabbè fai la clip no no devo fai la clip devo fai la clip no 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 devo fai la clip aspetta mi fermo e devo fai la clip 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 fai la clip abbiamo conquistato no no gas in arrivo nuova zona sicura contassegata da sotto da sopra andiamo la campagna bomba è merti scendi scendi avete del gas in arrivo io ho fatto due ho vinto oddio god cosa ho fatto non ci posso credere fai la clip oddio mamma non ci credo gas in avvicinamento godo 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 e vaffanculo va e vi dovete stare muti vi dovete stare time to shine di okan state gli zetti ho vinto ho vinto codo codo fai la clip fai la clip a questa cosa questo qua ha tenuto la coda per un minuto e quaranta l'ultimo l'ha persa si pote fai la cazzo della clip fai la cazzo prendi la clip ok fai capitare fai sei pronto no no siamo tutti pronti oh no prendi la clip prendi la clip fai la 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 fai la